Sarei messa il 17 aprile la sentenza per gli indagati nell'ambito del processo per i presunti concorsi truccati nell'ambito di riviaracqua alla società pubblica di gestione del ciclo idrico che hanno chiesto il rito abbreviato. Per gli altri indagati il PM ha chiesto invece il rinvio a giudizio con rito ordinario. Al rito abbreviato sono approdati l'ex direttore generale della società pubblica Gabriele Saldo, Federico Fontana che era presidente della commissione dell'esame finito sotto inchiesta, Fabio Cassella dipendente e policenziato, Giorgio Negro ex coordinatore amministrativo e membro della stessa commissione d'esame, Flavia Carli, il figlio Davide Carli, Gianluca Filippi, il padre Marco Filippi e ancora Francesca Mangiapan dirigente della provincia. Il pubblico ministero Francesca Sussarello ha chiesto una condanna a tre anni per Saldo e Fontana, due anni per Gianluca Filippi, Flavia Carli e Casella, un anno per Negro, Marco Filippi e la Mangiapan e infine quattro mesi per Davide Carli. Le accuse a vario titolo per gli undici indagati sono di truffa e rivelazione di segreto d'ufficio.